Regina, o le regine di cuore Ma non è che questo titolo vi hanno dato un consiglio Ma per niente Questo titolo va guadagnato sul campo E quindi Signorine e signore Diciamo dai 18 ai 90 Potete mettere in vostra i vostri balconi fioriti, trentini e avviosi Presidente, il regine di cuore, trentino atlantico, 2017 Attenzione, già c'è una Il trentino ci stupisce ogni volta Non vale per gli uomini